Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi vi faccio vedere una piattaforma incredibile si chiama Lumen5, lumen5.com, permette di fare dei video in 3 secondi veramente, non solo, vi permette anche di prendere magari il testo di un articolo, di un blog per esempio è trasformarlo in un video animato con le scritte e lo fa in maniera automatica, è molto semplice, avevo già parlato di questa piattaforma quando ho iniziato la mia attività di divulgazione nel ormai defunto gruppo Facebook Il Segreto per Vivere di Musica, che non c'è più ragazzi, non esiste più, è stato archiviato, ora c'è il gruppo Telegram, link in descrizione, per restare aggiornati, volete avere le anteprime, i miei link, regali, dovete stare nel gruppo Telegram, nel canale Telegram, non gruppo, perché non voglio che nessuno risponda, io vi mando le cose, voi se gradite ci state, se non gradite uscite dal gruppo, ma uscite dal canale, vi disiscrivete, comunque trovate il link in descrizione al canale Telegram, vediamo come questa piattaforma si è evoluta, Lumen5 è diventata una piattaforma incredibile, molto semplice, io vi voglio far vedere come ho realizzato per esempio questo spot per il mio ebook, che ho scritto con Ettore Passafiume di Semantic Sound, Smart Music Working, però ecco, la stessa cosa si potrebbe fare per un CD, un nuovo singolo, creare uno spot, e considerate che questo formato in verticale è un nuovo formato che sta girando tanto su YouTube, si chiamano Shorts, sono questi video in verticali, della durata massima di un minuto, che è la piattaforma spinge in maniera più accentuata, permettetemi il termine, cioè è un nuovo formato, è il modo con cui YouTube sta cercando di avvicinarsi al mondo TikTok, al mondo Instagram Reels, Stories, questi video in verticale di un minuto, quindi YouTube è un nuovo formato che ha definito Shorts, e se voi create questi video di un minuto in verticale, mettete nella descrizione l'hashtag Shorts, avete più probabilità che quel video abbia veramente un'esplosione di visualizzazioni, non partono subito queste visualizzazioni, gli Shorts partono dopo due o tre giorni, quando partono non tutti, però ecco, molto dipende dal contenuto, però sappiate che se il contenuto è valido avete una risonanza maggiore, quindi si potrebbe sfruttare questo formato per farci pubblicità, potremmo creare, che ne so, ora vediamo come, uno spot di un minuto dell'uscita del nostro singolo con la musica e la copertina e poi invitare ad ascoltare con la scritta, link in descrizione per esempio, potrebbe essere un'idea, e pubblicare. Potremmo creare diversi teaser magari di 30 secondi dove anche anticipiamo, cioè, li facciamo uscire prima per creare una sorta di hype per l'uscita di un singolo per esempio, vi faccio vedere com'è semplice intanto creare un video, voi andate su lumen5lumen5.com, vi registrate e dopodiché avete questa, questa dashboard diciamo, dashboard, è veramente gratuito, c'è un piano gratuito che è molto soddisfacente, potete fare quasi tutto, poi se utilizzate le immagini, video, alcuni video, immagini sono a pagamento, però c'è anche un bel catalogo di materiale gratuito, ma adesso vediamo. Allora, questo è quello che ho creato io, ma vi voglio far vedere proprio la semplicità, se noi andiamo su new video, possiamo scegliere i vari formati, cioè noi possiamo creare quello che vogliamo. Allora, questa cosa del blog ve la faccio vedere dopo, possiamo anche usare un nostro video, magari registriamo una storia oppure un video in verticale col telefono, poi lo carichiamo qui, ci aggiungiamo le scritte, le immagini o lo intervalliamo ad altre cose, possiamo addirittura, se abbiamo il testo di un articolo che vogliamo trasformare in un video, mettere direttamente il link qui e questo te lo trasforma direttamente in video, poi tu praticamente ti fa scegliere dove mettere le frasi e impostare le immagini. Però adesso proviamo a creare un video in cui, quindi usiamo uno script, cioè scriviamo il nostro testo, poi lo possiamo aggiungere, ecco questo che vi consiglio per creare un video da zero. Fuori il mio nuovo singolo. Fuori ovunque, fuori ovunque il mio nuovo singolo. Link in descrizione. Ok? Clicchiamo su go e vedete qui tutti i formati che potete scegliere, storie di Facebook, News Feed, Instagram, Twitter. Io vi consiglio anche YouTube normale, potete fare veramente qualsiasi formato. Allora andiamo però su Custom e scegliamo Verticale. Ok? Abbiamo diversi template gratuiti che la piattaforma ci mette a disposizione, già impostati con, diciamo, la grafica delle scritte. Cioè questa piattaforma è incredibile, potete sbizzarrirvi. Non era così quando l'ho nominata qualche anno fa quando ho iniziato questa divulgazione di video, no? Contenuti per i musicisti. Adesso è diventata veramente nel corso degli anni una potenza. Scegliete il vostro preferito. Io scelgo questo per il momento. Lui carica il template ed eccolo qua. Abbiamo praticamente la nostra struttura. Ecco, qui abbiamo, ho fatto un testo molto semplice, voi potete scrivere quello che volete, però per farvi capire come funziona. Qui abbiamo, diciamo, diviso, vedete lui il testo, già l'ha messo. Cioè vi rendete conto? Se voi avete un testo, volete fare il lyric video, anche per fare il lyric video mettete il testo della canzone qui e lui ti dà tutte le immagini. Dopodiché noi possiamo creare, diciamo, scegliere delle immagini direttamente dalla piattaforma, scegliere la musica oppure uploadare, scusate, caricare, diciamo, la musica e poi scrivere il testo. È fantastico. Se io vado su media, per esempio, e magari scrivo music, lui mi dà un po' di, scusate, non musci, ma music, lui mi dà un bel po' di video. Dove c'è la scritta marketplace e si paga? Il resto è gratuito. Dove vedete free è gratuito. Per esempio, lui che suona, lo voglio mettere qui e lo trascino. Magari è un pezzo acustico. Vabbè, è incredibile. Link in descrizione, magari gli mettiamo il telefono. Magari qui ci aggiungiamo, link in descrizione. Qua ci aggiungiamo, per esempio, ascoltalo subito. Ascoltalo subito. Ok, magari però questo, cliccando qua sotto, no, ascoltalo subito va bene, ma cliccando qua sotto lo spostiamo, lo mettiamo qui. Magari questo ascoltalo subito, ci possiamo mettere il telefono. Anche se non si vede bene, perché il nostro formato è in verticale. Proviamo a mettere, oh, possiamo mettere, no, marketplace, proviamo a mettere lei. Ora sto, ascoltalo subito. No, è storta lei. Questo marketplace, scegliamo questo per restare tema chitarra. No, non è centrato. Se io scrivo play, forse play mi aiuta. Play però è giocare, non capisce. Vedete, qui abbiamo la libreria di video, poi ci sono anche le gif. Dove possiamo mettere listen, proviamo a scrivere listen, su libreri. Questi sono i video che ho caricato io, su upload potete caricare, non so perché è finito qui, potete uploadare le immagini, molto semplice. Torniamo sul libreri. Mettiamo listen, anzi, mettiamo music. Questo fa il DJ, per esempio lui che suona, lo mettiamo qui, ascoltalo subito, ecco questa chitarra, link in descrizione. Per esempio, molto semplice. Dopo clicchiamo su musica e possiamo scegliere tra queste oppure caricare la nostra traccia. Cliccando qui prendiamo il file e il gioco è fatto. E questo video possiamo metterlo su YouTube in formato shorts perché lo facciamo durare al massimo un minuto. Lo carichiamo, mettiamo l'hashtag shorts in descrizione e vedrete che le potete creare diversi, qualcuno andrà forte a livello di visualizzazioni. Cioè, provate. Ovviamente molto dipende dal video e considerate sempre che YouTube è un motore di ricerca. Quindi dovete anche soddisfare una ricerca nel titolare il video. Comunque, se volete approfondire, ovviamente vi consiglio di prendere il mio ebook Musicista Youtuber. Trovate su Amazon come sfruttare YouTube per la propria carriera musicale, farsi conoscere e arrivare a interessare case discografiche. Musicista Youtuber. Scegliamo una canzone giusto per vedere... Ecco questa, no? Può essere una suspense, mettiamo, la selezioniamo. Ora però stoppiamo. Dopodiché vediamo la preview. Fuori ovunque il mio nuovo singolo. Ascoltalo subito. Link in descrizione. Ovviamente questo è Shull This Video. Qui possiamo modificare, perché qui comunque è quello il logo del mio canale YouTube. Possiamo modificare, praticamente, se noi andiamo qui, facciamo media, facciamo story. Ecco, cliccando qui, qui possiamo modificare. Condividi, potremmo scrivere. Condividi e lascia un commento e un like. Ok, questa può essere un'idea. Poi cliccate su Publish e vi arriva il link per scaricare il video comodamente via mail. È incredibile. Veramente incredibile. Possiamo creare quello che vogliamo, veramente. Abbiamo tutto qui. Possiamo caricare su upload i nostri materiali, editarli. È molto semplice da utilizzare. Possiamo creare, come abbiamo visto, tutti i formati. Se abbiamo un articolo possiamo addirittura salvarlo. E utilizzarlo, cioè prendere il link dell'articolo, caricarlo. Quando noi facciamo un nuovo video. Lo carichiamo praticamente su, cliccando su qui, nuovo video. Praticamente, cliccando su usa il tuo blog. Per esempio, ecco, io vi faccio vedere che avevo messo il mio blog Michele Maraglino. Quindi mettete l'articolo, il link dell'articolo. Per esempio, ora, come entrare in un'etichetta. Premo questo articolo e vedete che cosa succede. Devo decidere il formato. Potrei addirittura... Vabbè, continuiamo... Proviamo a fare un video per YouTube. Scegliamo il template con appunto la grafica del testo. E vedete che io già ho tutto il testo qui, che posso comodamente aggiungere. E qui già delle immagini che lui mi ha praticamente aggiunto. Posso, vedete qui, scegliere quanto far durare la singola immagine con la singola scritta. E qui posso, ovviamente, aggiungere le slide. Aggiungere il testo. Lui tutto il testo me lo mette qui a sinistra, così è comodo. Ah, intanto lui lo sta facendo tutto. Ed è una bomba, ragazzi. Vado su media, magari voglio cambiare le immagini, perché mi ha fatto delle immagini un po' a cavolo. Cerco nella library, scrivo label, che ne so, music label. Music label. Vediamo che cosa esce. E comunque... Sta ancora caricando tutto, ecco adesso mi esce qualcosa. Possiamo, vedete, spostare questo. Magari lo sposto qua. E il gioco è fatto. No, è in due secondi. Quindi, quando conviene contattare un'etichetta, magari prendiamo, che ne so, questo. Tac, lo mettiamo qui. Veramente semplicissimo. Possiamo, quindi, creare da zero noi col testo, editare in vari formati, caricare anche, prendere un articolo, trasformarlo in un video. Ci può essere utile per creare degli spot per i nostri video in verticale, che possono andare come YouTube Shorts, come Stories. Poi, lo stesso video in verticale lo potete mettere su TikTok, lo potete mettere sulle storie di Instagram, lo potete mettere sulla IGTV, su YouTube, su Facebook, sulle storie di Facebook. È veramente, credo, uno strumento per chi, appunto, vuole creare dei video professionali, ma non è in grado. Con questo sito è veramente semplice. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se lo conoscevate, e se questo video... Cioè, io potrei fare veramente, togliere la faccia. Anche per chi vuole avviare un canale YouTube, ma non vuole metterci la faccia, ecco qua. Tu ti crei il video e poi lo fai, diciamo, fai comparire delle varie immagini con il testo. E il gioco è fatto. Veramente, uno strumento incredibile. Lumen 5. Fatemi sapere se lo conoscevate. Se questo video vi è stato utile, avete scoperto qualcosa di nuovo, vi chiedo di iscrivervi al canale, di contraccambiare, di aiutarmi a far crescere questo video per farlo vedere a più musicisti possibile e anche a farlo crescere in generale. Commentate tutti i video, mettete tanti like, mettete like ovunque a tutti i video, commentate sempre, questo aiuta a far crescere. Scrivetemi anche, ciao Michele, sei forte, quello che volete, ma scrivetelo, così mi aiuterete a rendere i video più visibili. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, attivate la campanella per restare aggiornati. Ci vediamo nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie a tutti, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Ciao!